lo hai mandato non l'hai mandato ancora mandalo lo devi inviare ma tu vuoi fare l'attore si lo vuoi fare l'attore lo devi inviare invialo Paolo Antonio e Bennato stanno aspettando a ti ma chi aspetti vai invialo lo devi inviare adesso non perdere tempo e non lo inviare allora ma tu che vuoi da me mica io devo fare l'attore sei tu che vuoi fare l'attore vai fai l'attore invialo allora ciao